No all'ampliamento della Val Grande. In questi giorni, poco prima della scadenza dei termini per l'impugnazione, il comprensorio alpino VCO1 ha presentato il ricorso al TAR che chiede la revoca del decreto con cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha autorizzato l'ampliamento del Parco Nazionale ai comuni di Verbania, Mergozzo e Ornavasso con l'ingresso di nuove aree e tra ieri. Gioielleria Rossi, il nuovo negozio in via Briona a Domodossola.